Pistoiese Doc Pietro Tempesti, centrocampista arancione classe 2001, ripensa al campionato che si è fermato anzitempo, provando a trarre un bilancio. Sicuramente è una stagione positiva, personalmente penso anche per la città, perché penso che abbiamo chiuso, purtroppo la stagione si è terminata prima, ma eravamo in zona playoff, penso che avevamo fatto una grande stagione e avevamo ancora 10-11 partite a disposizione, in cui penso proprio che avremmo potuto dire la nostra in tutte queste partite. Tempesti ha impressi nella mente alcuni ricordi di momenti vissuti con questa maglia arancione, la maglia della sua città. I ricordi personali più belli, diciamo che mi rimangono di più, sono sicuramente l'abbraccio col Siena di squadra dopo il gol di Falcone nei minuti di recupero, che è stato significativo al massimo, e l'esordio con questa maglia, che sicuramente per me ha un grande significato, è stato un grande valore, perché è la maglia della mia città che rispetto tantissimo. E poi guarda al futuro, non dimenticando chi lo ha aiutato a crescere anche in questa stagione. Il prossimo anno sarà una stagione, spero, con tutto il cuore positiva e anche molto importante, perché come sappiamo è l'anno del centenario, cento anni di Pistoiese, è un traguardo molto importante. volevo ringraziare anche la società che ha dimostrato di credere in me, i tifosi che ogni volta che sono sceso in campo mi hanno dimostrato affetto e calore, e anche altrettanto il mister che mi ha dato la possibilità, mi ha fatto crescere a livello umano tantissimo e anche tanto tanto a livello calcistico. Grazie a tutti.